Siamo agli sgoccioli, domani partiremo con questo concerto dei Molotov che molti ragazzi e molte persone conoscono e non vedo l'ora di sentirli sinceramente. Aspetto molte persone, aspetto numerosi utenti anche perché la location è spettacolare, perfetta, lo conosciamo tutti. Si presta a questo tipo di evento sia all'International Beach Soccer sia al Beach Soccer della tappa del Super 8 del 18-20 di luglio ma soprattutto si presta ad una sorta di concerto, quello che faremo venerdì sera. Ormai il programma è abbastanza chiaro, lo conoscono tutti, sui social ci sta tutto il programma già da tempo e l'aspetto fondamentale che quest'anno, più dello scorso anno, ci tengo a sottolineare è la forte, la grande collaborazione che ho avuto da parte di tutte le attività commerciali che sono in quella zona, che sono sul lungomare ma soprattutto persone che di spontanea volontà ci hanno dato una grande mano, ci collaborano con noi, risolvono dei problemi dove magari noi non siamo a conoscenza e dove non abbiamo capacità perché poi sei benissimo che puoi avere delle capacità organizzative puoi avere delle capacità comunicative ma ci sono delle cose che spettano gli addetti del settore e fortunatamente ci sono dei ragazzi molto validi, dei ragazzi molto in gamba che ci stanno dando una mano e ci tengo davvero a sottolineare questa cosa perché secondo me per organizzare degli eventi soprattutto come questi internazionali che tra l'altro si deve considerare il fatto che questo evento, l'International Beach Soccer viene proposto soltanto in sei spiagge d'Italia quindi vuol dire che è qualcosa che ha un'importanza rilevante e per organizzare determinati eventi c'è bisogno di tanti collaboratori, soprattutto validi ma soprattutto di tanti 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 collaboratori che ti danno una mano che riescono a risolverti dei problemi a cui tu magari non avevi nemmeno pensato Sì, un evento importante che ospiteremo quest'anno per il secondo anno consecutivo noi abbiamo accompagnato e contribuito alla realizzazione di questo evento inserendolo quest'anno in un contenitore più ampio che la rassegna che l'amministrazione ha predisposto per questa estate di eventi che vanno da giugno a settembre e questa è una manifestazione importante Avevamo la possibilità anche di avere un altro evento, il Superette che sarebbe stato disponibile qui a Castellabate e quindi abbiamo pensato di mettere insieme, unire le forze anche per una ragione di opportunità e di logistica e quindi abbiamo messo insieme e creato una settimana ricca di eventi di sport, di musica, di attrazione per un target e per un pubblico giovanile Abbiamo voluto distinguere le due fasi, cioè quella delle attrazioni che si terranno qui a Barina Piccola con quelle che si terranno nel castello proprio perché abbiamo voluto pensare a tutte le fasce di età e un po' a una copertura totale del territorio quindi un evento importante poi oltretutto mi gratifica e mi riempie di orgoglio e di soddisfazione perché Castellabate ancora una volta si conferma molto richiesta Castellabate comunque nella comunicazione, nei media quindi questi sono eventi che comunque avranno una diffusione nazionale sui canali Sky, Fox per quanto riguarda il Superette quindi diciamo una visibilità ancora molto forte che si va comunque ad aggiungere in quello che già pure Mediaset nelle settimane scorse ha fatto passare quindi in una visione nazionale è un circuito importante quindi Castellabate ancora una volta si conferma e come dicevi tu sia per questo evento che per quelli che avremo a settembre quindi una conferma di una importanza e di un livello di qualità di eventi molto importante Sì, assolutamente, sì veramente per fortuna aggiungerei sono particolarmente contento di ritornare qui come ho detto in conferenza stampa ho avuto la fortuna di conoscere queste zone tramite l'evento della passata stagione me ne sono totalmente innamorato ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone straordinarie sotto tutti i punti di vista si è creato un rapporto che va al di là del discorso imprenditoriale e questo a livello umano mi gratifica tantissimo sono contento di essere qui di nuovo abbiamo allestito insieme a un'organizzazione eccezionale fatta di ragazzi volenterosissimi a un'amministrazione molto ricettiva abbiamo costruito un'altra grandissima tappa con grandi nomi non è facile vi posso assicurare che non è facile sotto tutti i punti di vista però l'abbiamo fatto sobbarcandoci sacrifici a destra e a manca e sono convinto che sarà un successo come l'anno scorso anzi credo che lo sarà ancora di più perché i giocatori che ho portato sono veramente di grande livello sia sotto l'aspetto fisico in campo sono ancora molto molto forti ma sia sotto proprio l'aspetto dell'immagine per il paese grazie